Rugby Open Days 2020! Il rugby torna finalmente in campo nelle città delle Marche, dal 5 al 19 settembre. Ragazze e ragazzi, questa volta non restate a casa, siete tutti invitati ad uscire e provarli insieme a noi il grande gioco del rugby. Rugby Open Days! Per le date, segui l'iniziativa sulle pagine Facebook delle singole società.